Ciao a tutti, riaccosci di terzo terzo episodio terzo, non so se avete capito terzo, non quarto, non so, terzo terzo, terzo episodio come sempre lo devo abbracciare vedete come è nero, vedete, vedete siamo due, io lingo comunque Simo non mi sono eccitato oh perché non va c'è già dei problemi c'è già dei problemi va, ora funziona forse perché un po' razzista contro te che sei un tunesino comunque terzo episodio siamo qui in Mesa al Bosco ci sono lasciati con tipo slander c'è che bisogna trovare le pagine le otto pagine ci sono trovati senza avere il video gioco il tuo cento di dravata nel senso sì davvero vabbè e niente siamo qui ci ha buttato Virgil ciò è ah ti può anche piegare come voi noi siamo vecchi non so cosa fa scopriamo l'insieme scopriamo l'insieme ah e il titolo è into the abyss si è vero ti ricordi alla nostra telespettatoria che sul corso sul main menu è uno principale c'è il corso c'è la selezione di abito di questi diciamo into the abyss bene qui non c'è nulla eh ma è strano cioè c'è l'igno si ok proviamo ad andare di qua ma eh si può andare tranquillo si no perchè ti sei piuttosto spensierato fanno ma eh ma l'è che pace bene se tipo lui è così ah perchè forse si deve entrare lì lì una vagina bello un buco nero no sai cosa non so a caso raiomonti e carlo cos'è cos'è carlo oh ciao no per favore guarda ah c'è una io non vorrei che poi dopo leggi per favore eh sta andando via il sole devi leggere no basta ancora la foto ancora il mio fratello ancora basta l'abbiamo già visto ma tu sei la mia prima poi c'è una foto tutto il viso tutto squarciato anche volevo leggere cosa c'è scritto sotto come siamo al tunnel come siamo al tunnel tunnel galleria per la chiave allora c'è scritto ma cos'è se colmo coolman 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 questo vabbè il secondo me ma te lo trovi davanti ci si divertirebbe davvero così il sangue questo ralasso fa ha po pò piano eh nel senso giocare può se vuoi la telecamera stiamo a cibo e tutto io sicuro scena Apport warning quello si può leggere dei pigia tipo X no, pigia X lo vedi che pigia ci pigia, to da vero leggi tutto? si vai si questo si sa che si vuole dire vai, ma anche è stato aggiunto cosi in insomma il folle è stato aggiunto l'oggetto ma se lo aveva dato un po' mi tirava scendio No, queste sono frecce o piccioni, sono frecce. Rondini. Ah, allora, accendiamo, vai. I sambi. Accendiamo, ayo, get to the tower. Vai alla torre. Io, accendo. Ma senti il casino fa? Ayo, ma... Devi andare su. Cosa sta succedendo? Ho giunto il momento. No. Simo, cosa devo... Ma te le guardi le indiazioni fatte col culo, nel senso, quelle giazzate bianche. Ah, qui c'è scritto no. No, 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 no. Proviamo di qua. Ma l'hai visto che c'è le fecce? C'è la vai in su. Poi non so come ci può andare in su, però ti guarda. Lui sta facendo. Vai di lì. C'è il coso, devi stare a dire, la vedi? Ti tipo, mi da un ascensore, questa di... E siamo a carrello e levatori? Grazie, volevo ricordare. Vabbè, deviamo dire, ma c'è energia. Energia. C'è una scala. No, non è una scala, scherzavo. No. Ho visto un lapsus. Ah, scusa, proviamo un attimino. Ah, sì. No, Fano, devi vedere che accende qualcosa. Sì, devi cominciare a girare. Mi sa anche a me. Via, che senti il casino fa? Quando vuoi? Vabbè, l'abbè l'idea, via. Facci inizio. Proviamo ad andare di qua. Io, quindi, non mi... No, no. Troppo tranquillo. Prima di qua, dai. Per il pc, un po' più stretto. No. Ma, no, sì, no. Ma, bisogna tipo accendere uno? Ah, aspetta, aspetta. Noi, ma quanti sono, quanti sono? Conta un po'. Conta un po' di ossini, più polirossi. Attiva altro. Che altro uia? No. Ah, andiamole a cercarla. Sì. Oh. Buonasera. Oh, ma, esce solo Slend e qui? Già, qui, lo scherifino, ogni video precedente. Sì, ogni video precedente. Gli ha, lo diciamo, la carne. E no, ancora. Ma non è lo stesso pezzo di primo, così. Ora si pilano il schizzo e ci si rimane, maledetta. Eh, ci si rimane per te. Ti sbianchi. Per tua fortuna. Per mia fortuna. Dai, oh. Sei ben razzistio, sì. Dillo che te sei anche riservi. Dillo, dillo. Ma, ma, fai. Stai anche riservi. Qui, cool man. Dillo, è il man outluster. Sì, è un beat. Ti faccio, dai. Ma chi è, oh? C'è per questo nerviso. Ma Mario no. Ma chi era, oh? Scelto una di chi, perché era troppo bianco. Era troppo bianco. Ti siamo così. Cioè, dov'è il primo, ragazzo? No. Non tu, ragazzo, ragazzo? Ma no, se dov'è il primo. Sì, sì. Guarda, ti pari, scusa. Dove, di qua? No, tu stai anche là. Ti devi andare da giù là. No, io sono andato di qua. E di qua si sono venuto. Sì, ancora. Ah, però, di qua. Bene, devo fare degli schizzi io qui. Ma, ma, L2. Scusi, ondolo. Scusi, ondolo. Ancora? Ma basta! Ma mi si muove, da tu. Ma mi si muove, da tu. Ne, no. Ma, lo ti pazzo. Guarda, scappa, scappa. Ma, ma, muoio di... Ma, la garazza ha di nulla. Ma, addio, sa di... Adio. Ma, ma, non ce n'è una. Ma, che, ma... No, allora, è... No, anche il sa di una sera, perché lo senti arrivato. No, schizzo, lo ho po'. No, io ci vuole il vero sa... Ah, prova a salire di lì. Direi, forse pensare in till. No, ancora. No, no. Buon, madonna. Un gatto attaccato, voglio. Ma, davvero. No. Via, via, gira di qua. Ma, vadovi davanti. Non si riesce a fare un ca... Eccolo. Oh, scusa, no, ma... No, 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 no. No, 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 no. Vero. E' la perentina, non più coni. No. La curiosità. Ma, andate qui, si va avanti a salire. Ma... Ci volete dare una mano voi, bimbi? No, no, qui, senti io. Questi pimpoli di... Cacchone è altro. Questi essi vivi non accedenti per forza. Scusami. Ah, vabbè, cazzo. Oh, bussano. Tum, 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 tum. Come si santi, si può saltare? No. No. Anche tu lì. Si può saltare? No. No, no, no. Ti sei venuto da... Di là. Ma certo fanno... No, c'è sì più io in un minuto e tempo. Ah! Ancora lì! Ma se ne vai a cross, da qua. Oh, ma... Oh, ma... Oh, si va rincorre. Buon schizzo preso. Ho fatto prendere il te, lo ho fatto prendere. E' come tu, ma cosa vuoi pensare? Non lo so. Ciao, mamma. Oh, io. Basta. Ah, ma ora si può morire. E' lei, o? Ma perché c'è anche i slender, oltretutto. Ma corri, Simo. Corro, è un va. Devi tornare dove era prima, prova. Dove... Che devi sapere. L'unio e trovo l'hai già acceso. Vabbè, ma comunque non sai di niente. Ma invece per lì. No, addio. Ma andava nel bagno. Se c'è, cosino... Chiamalo alimentatore, in mio modo, sì, per com'è il nome nel bagno. Non ti girassi a sinistra. Vabbè, dì. Bravo. Dai, ti muovi, eh. Maledetto, dì. Va a due, dì. Ora qui sbui da sinistra. Oh, ma se per me ti becchi in slender e ti ammazzi, eh. Eh no. Vai lì, vai lì. Eh, ma... Però non lo dobbiamo essere con essa. Quindi non ha fatto prendere uno schizzo prima. Per no male, c'è un pay smacker, non scherzo. Oh, lo fa, le va, le va, le va. Ma stai rotto, coglione, rotto. Boh, è a chiedere. Eh, però ti lascio lì, dà. No male, fa mai che morire. Dov'è, però? Non lo so, è da qualche parte lì. Oh, perché era a correre? Dov'è? Lì dietro. Corri, corri, vai dritto, vai dritto. Vai dritto, corri. Oh. Ma che ti suoi andare indietro? Sono andata a sinistra. È lì, è lì, è lì. Ma io devo andare lì. Ma sei sempre lì? Ma ti lavori di muro? Boh, io dì. Ma sei sempre lì? C'era i miei occhi. Mi hai ragionato, boh. Siete bene? No, sei rotto, coglione. Ma te la vi do, voglio morire. Dai, oh. Ma deve essere un chiuso. Basta, basta. Ma hai rotto le f... Oh, ci si fa appena? No, no. Una volta voglio morire. Voglio vedere cosa succede. Poi, dì. Ci si deve ritornare. Ma, c'è lì, non vengi dall'inizio. No, c'è, va bene. Ti do il joystick nel treddere ci fa il muro. No, no. Dov'è? Devi correre. Devi ormai. Ma capacità va. Oh, ora non c'è mai più. No. Vai a sinistra. No, va. No, non devi andare da no. Oh, giochi. Come rotto. Certo. Devi prendere l'ascensore. L'ascensore c'è ne è 47. C'è un arti 2, quant'è? Qui c'è il blocco, qui c'è? No, le frecce. Grazie. Guardi lì. Ah, sicuro. Ah, vedi, eh, c'è questi fregnoli più rossi. Due. Trattito ora. Sono andato a destra, me lo so scordato. No, no. Sembra di no. Ma a me mi sento, si provano. Palle, questi gioi lì. Ah, provo ad andare di va. No, no. È meno uno. Le mancano due. Figlioli di no. Figlioli di no. Figlioli di no. Figlioli di no. Ma fai. Qui se dove c'è? Se dove c'è il fan, allora... Lo stasci, dov'è? Oh, basta, basta. Ma ti si può dare una sacchia di Slender G? Un'arcagnata di denti? Tipo... No, no. Perché c'era... Perché c'era... Vabbè, abbiamo guadagnato un trofeo. Eh, che culo, eh. Colomino mi guarda anche così, falla. Ma i peli per il culo. No. Di pigia quel cosi. O mi dica che bisogna rinizia. Fanno me la fan fuori. Eh. Mi si. Mi succede. Dai, vola me. Pigia. E vabbè, e ci sono rimasti 20, 5 figli, come vedi? Ah, perché guarda, ti andranno proprio le forze. All'avvice da salire le scale, eh. Non è qui, beh, dall'altra parte. Ci sono lì le scale, l'hai visto? Cronolo. Vai, no. Dove? Vai, dove vedi? Eccolovi! Eccolovi! Questo prima si era visto, eh. Meno male, Diego, mai sento la cosa in più. Ovvio, vai, vai, vai. Salgo le scale. Vuol dire che dopo questa vera di venti che... Deriviti piglia. Ora tu vede, vada, ti va? Ora, ora. Eccolo! Questi... Ma, 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 ti le... Guarda, muovi tutti i cali. Adesso, mi, ecco. Ecco, vedi. Da dietro, puoi anche prendere uno schizzo. Quando ci prenderai, no? Perché non ti ho la spera. Eh, no. Ma se te ti vedi un coso bianco che tiene il bianco... Un coso bianco che tiene il bianco... Che tiene il bianco... Non ti fa più correre poi dopo. Ma sì. E un corri più. Dai, ora, manca due. Dai, buona scelte se lo pensi voi. Cioè, vedi? Corri pochissimo. Qua. Ma io, ecco. E la... Subito si manca one. E la l'ultima non si troverà mai. Come la... Ma... Ma, 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 ma... Ma, 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 ma... Ma, 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 ma... Ma, 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 ma... 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 No, Simo! Ma, ma, ma... Ma, ma, ma... Sì, spiega il viso! Cimora, fallo te, dove hai? No, c'è stile! Ma no, no, ma fa morire! Non corri! Ma come hai visto? Come hai visto? Dammi! Occhio a... Ma cosa fai? Ahi ho pigiato te! Ma perché si può spiegare? Ahio, cosa fai? Ahio! Scazzotasti! Ma prima hai stai cascando così! Oh, ma dàci una noia! Ti sei visto allo specchio perché lo sai che siamo più differenti da Slender? Ma lo so! Lo so! Mamma mia Luide! Mamma mia! Cos'è da nulla? Rompi proprio il cazzo! Poi, Adie! Sei sempre? O ti sei arrivato di uno? Vai, vai, vai! È andato via, è andato via! Sì, sì! Ma non puoi fare! Adie! Vai, vai, vai! No, no, bisogna cercare di non morire! Ragazzi! Vai, Adie! E lo so! Oh, siamo via! Ma non so, andati di va! No! Qualca uè! Andati di va! Ma esce lui, sai! Sì! Sì! No! Sì! 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 Se è più vero! Anzi! Infinito questo! 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 No! 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 ma ma si fa la sigla perchè se non è vero che il suo telefono si vedevano sempre su tutti i siti si è così e questo è meglio a ci si vede dopo dopo avendo fuori dopo 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 sapete se più non ci lasciate vai 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 si incazzano in cazzo che era cerca sotto ossa evitare la gola basta ma si vedo vedo dopo ciao ragazzi si è trovato l'ultimo, l'avevo trovato guardate quanzo è giocato mi ha detto che ho più giocato si che cazzo c'è altro schizzo vabbè comunque vabbè ancora ora si dovrà tornare dietro mi avrei venire una moglie comunque è una osina che si è imparato ah, ovviamente li avete avviso a percosa di aderingheri ad aderingheri che praticamente aspetta no 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 qui è qui è qui sabato gli danno aiastuocca sisi sicuri vuoi almeno male ci sono stati 50 minuti licitat d'essere che l'episodio non è niente qua no, di tutto l'istruttore di coglioni e la sega finito, finito boh bimbi si è finta anche questo un po' che noi siamo morti di vera te volte fra l'altro non so se... se era bello che mancava prima comunque... ah ok l'episodio si è fatta comunque nonostante è stato probabilmente l'altro di coglioni perchè tipo durerà 25 anni tu da un po' 25 minuti 25 minuti più o meno niente, concludiamo l'episodio lì non so se ti ripeto se era l'ultimo che ci trovava già prima che si sto passi il video insomma, niente, male male li hai cercati su internet ne hai detto questo episodi, te, te no, hai detto te no, ce l'ha scritto qualcosa ce l'ha scritto tipo no, ce l'ha scritto, sono salvati guarda facciamo una maschina, si fa così tanto sto gang-gare così vi si fa, vedi che fra l'altro noi in episodi c'è un tim tech mister joe guarda, si fa pare passi all'episodio tan tan è vero, flashback al prossimo episodio dai ragazzi, buon appetito ciao a tutti ciao a tutti incredibile e' piooo lo fa in piatto e' piuuuuuuu Grazie a tutti